Dopo vent'anni Giuseppe Bono scende dalla plancia di comando quale amministratore delegato di Fincantieri. Oggi la Cassa Depositi e Prestiti ha approvato la lista di candidati in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Colosso. Rinnovo che sarà ratificato il 16 maggio prossimo, giorno in cui è stata convocata l'Assemblea. Il nuovo presidente sarà Claudio Graziano, torinese classe 1953, già capo di Stato Maggiore della Difesa, mentre a Bono subentrerà l'attuale AD di Mera Tecnimont Pierroberto Folgero, romano cinquantenne. Cassa Depositi e Prestiti azionista di Fincantieri con una partecipazione del 71,32%. La proposta è di determinare il numero degli amministratori da nominare in 10. A completare la lista del socio di maggioranza per il prossimo Consiglio di Amministrazione compaiono i nomi di Cristina Scocchia, Alberto Dell'Acqua, Walter Trevisani, Alessandra Battaglia, Massimo Di Carlo, Esedra Chiacchella, Rosanna Rossi. Gli amministratori rimarranno in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Grazie a tutti.